Io comando al potere guaritore di Dio di aprire questo orecchio. In nome di Dio, in nome di Gesù. No, risente. What happened? Look here! Pastor, she has a cancer in here, and she felt the power of the Holy Spirit come upon her, and the pain has gone completely. Pastor, questa donna è venuta che aveva un tumore da questo lato del ventre, ma ha sentito il potere di Dio che ha rimosso ogni dolore. C'era un tumore lì. Tre volte è provato a ritornare. Senti con la mano se senti ancora. Non senti più dolore. Possiamo dare gloria al Signore. Questo pastor ha un problema con la spalla e il suo ginocchio, ma stasera il dolore è andato via. Da quant'è che avevi dolore? Da più di un mese che cos'è che non potevi fare? Appena provavo a muovervi questo braccio, sentivo dolore. e adesso puoi rogare a Dio. Insieme adoriamo Dio. Fai miracoli tra noi. Non c'è nessuno altro come te. Cosa succede qui? Questo padre ha un problema con la spalla e il dolore è completamente morto. Questo uomo aveva un dolore tremendo al ginocchio, ma stasera non sente più alcun dolore. Cosa era il problema con il tuo ginocchio? Ho avuto un incidente. Hai avuto un accidente. Mi sono rotto i denti, che cosa. Ho frattato il mio ginocchio. Da quanti anni avevi quel dolore? Da 62. Da 1962. Sei felice allora che stasera Gesù ti ha guarito? Muovi la gamba. Possiamo fare di meglio di così. Tutti insieme e lo diamo al Signore, dai. Io comando il potere guaritore di Dio di aprire questo orecchio. Cosa succede? Che hai detto, cara? In Jesus' name. What happened? You can hear. I can hear. Tieni il microfono, copri quell'altro orecchio, puoi ascoltarmi, puoi ascoltarmi, ripeti dopo di me, Gesù, puoi ascoltarmi, senti l'applauso. Da quant'è che avevi questo problema? Dieci anni. Dieci anni, ten years. Ten years, or you're almost there. You feel the power of God on you? Senti che c'è il potere di Dio su di te? I have to be honest with you. My heart, my compassion, face me. Guardami, cara. Ho sentito una grande compassione verso di lei, laggiù. Quando ho sentito che l'orecchio da quel lato destro si stava preando, appena ho aperto i miei occhi, ho visto lei che pregava per il suo orecchio. E ho saputo, ho capito che era lei quella che Dio voleva guarire. Ma poi non è venuta lì. Non è venuta perché ho detto signore non ha ricevuto. E il signore mi ha detto tagli un pochino d'aiuto. Vai e prega per lei. Ancestà, il servizio di protezione. Scrivi al canale, i saluti. Ancestà, il servizio di un canale di nuova. Oltre un canale diście da una donazione a non cambiarelle. Clicke il canale ora. Scriviti al canale.